Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Si è svolta questa mattina presso il mercato cittadino la presentazione del candidato sindaco di Broni, Antonio Riviezzi. L'evento odierno è il punto di partenza per un fitto calendario di incontri con gli abitanti dei quartieri e delle frazioni, con il mondo associazionistico e con le numerose categorie produttive, sociali e di categoria. L'obiettivo è quello di individuare le priorità che costituiranno il programma di governo della città per i prossimi dieci anni. Nell'ultimo decennio Broni è ripartita, ha cambiato volto. Di conseguenza sono cambiate anche le priorità dei cittadini, spiega Antonio Riviezzi. Sono emerse e stanno emergendo nuove esigenze alle quali voglio dare risposte concrete. Dalla sicurezza nelle proprie case e in strada, alle manutenzioni delle vie e delle aree verdi, dalla rimozione dell'amianto dei privati alle misure per favorire lo sviluppo e creare lavoro. Voglio capire da chi vive, lavora o ha interessi a Broni, spiega il candidato sindaco, quali sono le questioni più urgenti e farmi carico delle loro richieste, in modo che il programma di governo di Unione Civica per i prossimi dieci anni sia frutto della sintesi di tutti gli input che riceverò, coniugata con le priorità che ho individuato nelle mie esperienze di amministratore. Rispetto dieci anni fa, Broni è una città dinamica e movimento verso il futuro, dice Riviezzi, adesso c'è bisogno di un nuovo modo di governare, un nuovo approccio e nuovi progetti per consolidare il percorso di crescita partito nel 2006. L'originale è anche la scelta dello strumento scelto quale simbolo della campagna di ascolto, il post-it. Si tratta di un oggetto semplice, pratico, di facile utilizzo, piccolo nelle dimensioni ma grande nell'utilità che ormai si trova in tutte le case, spiega il candidato di Unione Civica. A chi parteciperà agli incontri chiederò di scrivere un post-it con la prima cosa che farebbero al posto mio se fossero il sindaco di Broni. Il primo incontro dedicato agli sportivi e alle associazioni sportive è fissato per lunedì 21 marzo alle ore 21 presso la sede dell'Unione Civica in via Emilia 117. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot-jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.